L'incidente sul lavoro in un'azienda di Pignola 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 Doccia fredda per la comunità di Montalbano Ionico che dallo scorso mese di gennaio si era mobilitata per impedire lo smembramento dello storico istituto di istruzione superiore Pitagora il TAR ha infatti rigettato il ricorso presentato dal comune e dalla provincia di Matera entrambe rappresentate da Piero Marrese oggi eletto in consiglio regionale una battaglia inaugurata all'indomani del piano di dimensionamento scolastico licenziato dalla regione fu il collegio dei docenti nella seduta dell'8 gennaio pochi giorni più tardi ad avviare la mobilitazione approvando una delibera in difesa del presidio e ricordando come a dicembre lo stesso piano prevedesse l'accorpamento con l'istituto tecnico commerciale Maglio Capitolo di Tursi la regione ha invece deciso di smembrare l'istituto che ricordiamo nutriva dell'autonomia scolastica anche grazie ai numeri delle sedi di Scanzano e Nova Siri per Montalbano Ionico la beffa fu doppia considerata la dirigenza privata all'istituto comprensivo fiorentino la comunità le ha provate tutte per salvare la dignità della scuola 70 anni di storia e per scongiurare anche un impoverimento del territorio ma la regione è rimasta ferma validando l'accorpamento della sede di Montalbano a quelle di Pisticci e Policoro diverse sono state le iniziative di protesta promosse sia in Viale Verrastro sia in Piazza Vittoria scesero in campo anche i due parroci della comunità a difesa dell'istituto Pitagora furono raccolte delle firme il sindaco e una delegazione degli studenti furono auditi dal prefetto di Matera senza però riuscire a sensibilizzare l'ente di Viale Verrastro il sindaco Marrese non ha ancora deciso se proporre o meno ricorso al Consiglio di Stato Oggi all'obitorio dell'ospedale San Carlo di Potenza l'autopsia disposta dalla PM Antonella Marinello sul corpo di Mario Sandro Bainotto l'operaio di 55 anni di origini argentine ma residente a Cuneo deceduto lunedì pomeriggio in un'azienda di contrada Petrucco a Pignola in zona Pantano attiva nel settore della movimentazione e pavimentazione asfalti l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un cestello pieno di bitume nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri che hanno sentito diverse persone informate sui fatti per chiarire l'esatta dinamica della tragedia e individuare eventuali profili di responsabilità quello di Pignola è il terzo incidente mortale sul lavoro in Basilicata del 2024 ora ci spostiamo a Matera per occuparci della vicenda quartiere degli artieri l'associazione Ambiente e Legalità ha presentato un esposto alla Corte dei Conti contro l'inerzia del comune il sito infatti dopo i lavori di riqualificazione si trova in uno stato di degrado e abbandono doveva diventare il polo dell'artigianato sentiamo Mariolina Notar Giacomo a dare slancio è stata l'edizione di quest'anno di Fucina Madre 4.500 i visitatori all'Expo dell'Artigianato 2024 e tra questi numerosi turisti un dato che ha fatto riflettere CNA Matera e l'azienda di promozione territoriale di Basilicata il presidente della Confederazione dell'Artigianato Matteo Buono e il direttore dell'APT Antonio Nicoletti hanno espresso la comune intenzione di far diventare Matera Polo dell'Artigianato individuando un sito semmai nei rioni Sassi punto di riferimento del comparto un'idea tenuta in servo già molti anni addietro da CNA che con l'aggiudicazione del bando comunale di concessione degli immobili del quartiere degli artieri nei Sassi avrebbe dato vita proprio ad una realtà del genere peccato che l'avviso fu poi ritirato dal comune con i locali ristrutturati da Invitalia finiti nel pieno degrado una vicenda che ci porta a 22 anni fa con il progetto da 1,3 milioni dell'allora sviluppo Italia poi l'avvio dei lavori di riqualificazione nel 2008 e la conclusione nel 2011 Invitalia accede alla gestione degli incubatori a sviluppo Basilicata società in house della regione che però si tira indietro si arriva al 2019 quando l'amministrazione rientra in possesso degli immobili e pubblica il bando di gestione il cui ritiro dopo l'aggiudicazione da parte di CNA unico concorrente spinse la confederazione dell'artigianato materana a ricorrere al TAR vinto il ricorso con i giudici amministrativi severi nel giudizio nei confronti del comune visto che la mancata gestione dei locali già pronti e attrezzati per l'utilizzo ne determinò l'occupazione abusiva e la devastazione a questo punto l'interesse di CNA è chiaramente scemato considerata la necessità di provvedere alla riqualificazione degli immobili ma la confederazione vuole comunque portare avanti il progetto chiedendo al comune uno sconto sul canone mensile mai accordato però quartiere degli artieri nel cuore dei sassi dopo lo sgombero da parte della polizia locale è rimasto inutilizzato e abbandonato una situazione inaccettabile che ha spinto l'associazione ambiente legalità di Matera a presentare un esposto alla corte dei conti Pari de Leone il nuovo presidente dell'enoteca regionale lucana è stato presentato stamani a Potenza dall'assessore uscente all'agricoltura Alessandro Galella Leone resterà in carica tre anni in questi ultimi anni ha dichiarato Leone l'enoteca ha avuto un momento di fermo rimetteremo in piedi la base associativa e organizzeremo una serie di eventi soprattutto fuori regione per esprimere completamente il nostro potenziale attualmente l'enoteca che ha sede nel castello Piro del Balzo a Venosa comprende 17 produttori vitivinicoli Galella in vista del tavolo verde in programma domani ha annunciato la nuova disponibilità finanziaria per oltre un milione di euro per fronteggiare i problemi che l'anno scorso hanno colpito i produttori massima attenzione delle forze dell'ordine in tutta l'area del Vulture Alto Bradano dopo gli assalti ai banco mattei furti che hanno interessato abitazioni aziende agricole ed esercizi commerciali e l'impegno del prefetto di Potenza che ieri ha riunito a Lavello il comitato per l'ordine e la sicurezza ce ne parla Celestino Benedetto I dati parlano di un indice di criminalità sotto controllo seppure furti e rapine continuano a destare preoccupazione tra i cittadini dopo i colpi ai Bancomat del Vulture Melfese non è mancata l'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che in sessione itinerante si è riunito per la penultima tappa a Lavello dove il prefetto di Potenza Michele Campanaro affiancato dai vertici provinciali delle forze dell'ordine ha incontrato i sindaci di Lavello, Banzi, Forenza Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Montemilone Palazzo San Gervasio, Ripacandida e Venosa un check-up sullo stato di salute della sicurezza urbana nella zona del Vulture Alto Bradano in uno dei territori maggiormente feriti da incursioni predatorie dalle confinanti province pugliesi Campanaro ha evidenziato come il 2023 abbia complessivamente registrato una tendenza al ribasso della delittuosità rispetto all'anno precedente sia in provincia di Potenza meno 6,5% sia seppur in misura meno significativa nell'Alto Bradano medesimo scenario nel primo quadrimestre dell'anno quanto a furti e rapine a fronte di una flessione nella provincia di Potenza si registra invece un leggero aumento delle rapine l'attenzione per questo territorio è molto elevata ha detto il prefetto rassicurando i sindaci non possiamo ignorare che gli assalti e gli sportelli ATM i furti nelle aziende agricole, nelle abitazioni e negli esercizi commerciali hanno generato negli ultimi mesi non poche preoccupazioni tra cittadini ed amministratori abbiamo disposto un robusto rafforzamento dei controlli in questa parte della provincia dagli inizi del mese di aprile donne e uomini in divisa sono stati fortemente impegnati in servizi straordinari di pattugliamento e posti di controllo e oggi in prefettura Potenza nuova riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per discutere in questo caso delle misure di sicurezza in vista dell'arrivo in città del nuovo vescovo Davide Carbonaro che prenderà possesso dell'arcidiocesi di Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo sabato 18 maggio presente al tavolo il sindaco il presidente della provincia di Potenza i vertici provinciali delle forze di polizia il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco il direttore del 118 e di rappresentanti della curia arcivescovile ricordiamo che sabato di buon mattino il nuovo vescovo sarà sul Sacromonte di Vigiano si recherà poi in visita all'ospis dell'ospedale San Carlo nel primo pomeriggio invece incontrerà i detenuti del carcere di Potenza la parte ufficiale pubblica inizierà alle 12 in cattedrale con la presa in possesso dell'arcidiocesi nel pomeriggio alle 16 ci sarà l'accoglienza e il saluto delle autorità e dei giovani all'interno del parco Baden-Powell a seguire in corteo ci si recherà nella vicina chiesa di San Giovanni Bosco per la prima concelebrazione del nuovo arcivescovo e ieri mattina il comune e la diocesi di Tricarico hanno salutato Monsignor Salvatore Ligorio il cui ministero episcopale cominciò proprio a Tricarico il primo marzo del 1998 il servizio di Vito Sacco il comune e la diocesi di Tricarico hanno voluto salutare Monsignor Salvatore Ligorio che il 18 maggio prossimo lascerà per raggiunti limiti di età l'arcidiocesi di Potenza Muro Lucano Marsico Nuovo con l'ingresso del nuovo arcivescovo Monsignor Davide Carbonaro Monsignor Ligorio cominciò proprio nella diocesi di Tricarico il suo ministero episcopale il primo marzo del 1998 fino al 24 aprile del 2004 quando Papa Giovanni Paolo II lo nominò arcivescovo della diocesi di Matera Ersina Monsignor Ligorio è stato dapprima ricevuto nella sala consigliare del comune di Tricarico dal sindaco Paolo Paradiso il quale ha sintetizzato in cinque parole l'opera pastorale del vescovo nella diocesi di Tricarico affetto, umanità, accoglienza, amicizia e fede il sindaco ha donato a Monsignor Ligorio una targa ricordo a nome dell'intera cittadinanza tricaricese abbiamo voluto salutare nella casa comunale il suo eccellenza reverendissima Monsignor Ligorio per l'opera che nei suoi sette anni ha svolto all'interno della nostra comunità e dell'intera diocesi è qui perché è la casa di tutti e quindi ci è sembrato oltre che doveroso anche molto piacevole poterlo accoglierlo e salutarlo al fine del suo mandato episcopale gli abbiamo augurato di continuare nel suo percorso di vita ricordando sempre nel cuore e per tutti i credenti anche nelle preghiere quella che è la nostra comunità diocesiana tutta in cattedrale è stato ricevuto dal vescovo della diocesi di Tricarico Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo dal vicario generale Don Nicola Urgo e dal parroco Don Giovanni Trolio nel suo indirizzo di saluto Don Nicola Urgo ha evidenziato come Monsignor Ligorio abbia sempre ricordato e incoraggiato i sacerdoti dicendo loro che i problemi dell'emigrazione del disagio giovanile, della povertà e della sofferenza vanno affrontati con determinazione e Monsignor Cagliazzo ha aggiunto che Monsignor Ligorio è stato punto di riferimento non solo per i vescovi ma per tutta la Basilicata Monsignor Ligorio infine parlando dell'inizio del suo ministero episcopale nella diocesi di Tricarico ha espresso il suo compiacimento per la volontà di Monsignor Cagliazzo già arcivescovo della diocesi di Matera Ersina di accettare di guidare anche quella di Tricarico ricordando quando egli vescovo della diocesi di Tricarico fu per qualche tempo amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Matera Ersina infine Don Giovanni Trolio ha donato a Monsignor Ligorio una riproduzione del quadro della Madonna del Carmine compatrona di Tricarico che è situato nella chiesa omonima e veramente sono grato per l'accoglienza, l'umanità proprio preso a cuore e quando un vescovo si trova in questa condizione non può che non corrispondere pienamente a una disponibilità di servizio sono veramente grato ai sacerdoti, ai laici battezzati e soprattutto il riferimento a Monsignor Raffaello Dallenoch per l'intuizione bella avuta a far nascere questa comunità delle suore discepoli di Gesù e Eucharistica perché avesse l'attenzione in tutti i paesi purtroppo diminuisce l'umanità le comunità diminuiscono anche le suore diminuiscono i sacerdoti però la speranza anima quanto di ricchezza e di bellezza presenta questa diocesi con i singoli paesi Al parco Baden Powell di Potenza coltiviamo il rispetto iniziativa di Coldiretti Basilicata contro la violenza sulle donne ospite della manifestazione al mercato di campagna amica la campionessa europea di karate terriana Donofrio vediamo Sono molto onorata di essere qui tra l'altro nella mia terra di appartenenza per me questa è una grande iniziativa perché ha alla base un valore molto importante che è appunto la violenza contro le donne io sono un'atleta che rappresenta un'arte marziale che si potrebbe rivelare fondamentale al mondo d'oggi pratico karate che è uno sport di difesa e non di attacco e credo che sia molto importante per la donna acquisire una certa determinazione nonché una certa sicurezza per poter contrastare questo fenomeno che purtroppo viviamo quotidianamente La campionessa europea di karate terriana Donofrio si unisce alla lotta contro la violenza sulle donne attraverso il progetto nazionale di beneficenza e sensibilizzazione di Coldiretti Coltiviamo il rispetto per l'occasione al mercato di campagna amica all'interno del parco Baden-Powell a Potenza un'iniziativa che ha visto protagoniste le donne attive in diversi ambiti dallo sport al volontariato fino alle associazioni di categoria a partire dalle donne Coldiretti pilastri delle comunità rurali italiane da sempre impegnate nella difesa dei valori di solidarietà e rispetto In agricoltura le donne hanno svolto sempre un ruolo importante e imprescindibile molte volte non riconosciuto per cui sono queste le occasioni per non dare per scontato nulla e rimarcare il ruolo fondamentale di ogni individuo nella società ma in questo caso come la giornata di oggi per le donne noi abbiamo una sezione dedicata come Coldiretti a donne imprese quindi attraverso la nostra responsabile riteniamo opportuno e doveroso rimarcare questi concetti fondamentali per la società e per il mondo intero Nel corso della mattinata i consumatori del mercato di campagna amica hanno potuto acquistare i prodotti della gentilezza indicati con un fiocco rosso da destinare alle famiglie in stato di povertà aderenti al progetto di magazzini sociali prodotti a chilometro zero frutto dell'impegno e della passione che ogni giorno i coltivatori Coldiretti mettono in campo Nel mercato di campagna amica i nostri agricoltori portano dalla terra che coltivano sui banchi i loro prodotti che sono derivati dall'amore per quello che fanno per quello che producono perché non producono prodotti ma producono cibo cibo garantito cibo a un prezzo giusto cibo che praticamente è il frutto del lavoro di ogni giorno Si è concluso al Palasport di Via Foggia a Melfi il progetto School Basket organizzato dalla società Normanna Pallacanestro con l'istituto comprensivo Ferrara Marottoli Ce ne parla Vittorio Laviano In un palazzetto dello sport gremito di bambini festanti in Via Foggia a Melfi si è concluso il progetto organizzato dall'istituto comprensivo Ferrara Marottoli che su proposta della società Normanna Pallacanestro ha consentito ai suoi piccoli studenti di imparare i fondamentali dello sport della palla spicchi il racconto della vicepreside è un progetto promosso dalla Normanna Basket per le classi seconde e terze della scuola primaria Marottoli e ha visto la partecipazione di circa 160 alunni sempre delle seconde e delle terze con dieci lezioni di coach che venivano a scuola nell'orario scolastico quindi facendo lezioni ai bambini impartendo quelle che sono le regole del basket il divertimento è assicurato? oggi la manifestazione finale di questo percorso che ha visto la partecipazione appunto di questi bambini sono in festa sono entusiasti fanno tifo per le altre classi ed è veramente una bella bella conclusione di questo progetto ci auguriamo che per il prossimo anno possano di nuovo ripetersi queste lezioni di basket la scuola si è aperta al territorio la Normanna Basket ha voluto farci questo regalo e ha visto i coach con i bambini davvero hanno impartito quelle che sono le regole fondamentali del basket e i bambini hanno partecipato davvero con entusiasmo nella duplice veste di insegnante dell'istituto comprensivo Ferrara Marottoli e istruttrice di minibasket Daniela Cavallo racconta questa magnifica esperienza il progetto denominato School Basket è un progetto rivolto alle classi seconde e terze della scuola primaria dell'istituto comprensivo Ferrara Marottoli di Melfi la Normanna Basket ha promosso questa attività in queste classi grazie alla collaborazione di alcuni allenatori di minibasket tra cui io Antonio Rende e Dino Montanarella siamo andati nelle classi seconde nelle classi terze per un'ora a settimana abbiamo fatto un totale di dieci incontri per classe abbiamo un po' raccontato ai bambini e fatto praticare ai bambini questo sport bellissimo che è comunque uno sport che fa fare squadra che fa includere tutti i bambini e ovviamente speriamo si possano avvicinare anche alla palacanestro che è uno degli sport di squadra più belli dunque sono stati gli allenatori della Normanna ad entrare nella palestra della scuola Marottoli ovviamente in compresenza con le titolari della classe abbiamo collaborato con le insegnanti per fare delle lezioni di palacanestro insomma una grande festa finale per tutti è sempre bello chiudere i progetti con una manifestazione si vedono i genitori con i sorrisi felici di vedere i propri figli giocare e i bambini ancora più felici è proprio una grande festa ed è tutto per questa edizione torniamo alle 19 grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata grazie per la visione